Galleria La Soffitta Spazio delle Arti, domenica 29 gennaio 2011, stamani si inaugura una prestigiosa mostra di acquerelli, niente meno che di Herman Ness, che non era solo scrittore, ma negli ultimi anni della sua vita si è dilettata anche nella pittura. E questa collezione è una collezione che vediamo di 60 acquerelli, di circa 3.000 che Herman Ness aveva realizzato, appartengono alla nipote di Herman Ness che in mattinata inaugurerà la mostra. Siamo qui con Francesco Mariani, che è l'organizzatore principe di questa mostra alla soffitta e volevamo sentire il tuo parere su come siete riusciti a organizzarla. Dunque, buongiorno tanto e ben arrivati. La mostra è stata realizzata dalla galleria La Soffitta Spazio delle Arti con il contributo della nipote Herman Ness, quindi l'avvallo esclusivo suo e la collaborazione del critico Gregorio Russi e Valentina Campatelli, i quali conoscono molto bene Eva S e alci verso loro, è stato l'aggancio per poter realizzare a Sesto Fiorentino un evento di tale importanza. Ma vorrei che ci dicesse due parole anche l'architetto Franco figli che è qui con noi come visitatore. Buongiorno, siamo in una visita anteriore all'inaugurazione, siamo di straforo come si dice. Buongiorno, c'è dell'incredibile perché la poesia è veramente magnifica, ma la pittura diciamo che Tarratenta a volte la supera, insomma ci sono cose veramente molto interessanti, io penso che è una dimensione che sta bene con Sesto perché Sesto in fondo è sempre stato il ruolo, questi geni si sono presentati, sono apparsi, eccetera, eccetera, quindi ci sta proprio bene questa mostra di Herman Ness Bene, vi ringraziamo e io prima di concludere faccio… Due parole vorrei dire per ringraziare le istituzioni che hanno collaborato a tale evento, quindi il Comune di Sesto Fiorentino e Sesto Idee con Massimo Rolino e Gianni Genassi, rappresentante del Comune, grazie. Perché ieri c'è stato l'antefatto, c'è stata la presentazione in Biblioteca della Salma e Ucci, è stata la consacrazione di questa mostra. Ora per concludere a questo è tutto rigorosamente in diretta, ci addentriamo in alcuni degli acquerelli per far vedere di cosa si tratta. Questi che vedete sono alcuni degli acquerelli di Herman Ness esposti alla Galleria La Soffitta Spazio delle Arti, presso la Casa del Popolo di Colonnata del Sesto Fiorentino. Invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare, perché si tratta davvero di un evento di grande importanza, soprattutto in uno spazio come questo, che è uno spazio che ormai funziona da quasi 50 anni e crediamo sia l'unico spazio di questa natura presente in una struttura dell'associazionismo. Quindi partecipate davvero alla visita di questa mostra. C'è anche un bellissimo catalogo che voi potete acquistare qua. Bene.